La Juve soffre ma passa allo stirpe grazie al gol di Cristiano Ronaldo, terzo sigillo in Serie A e a Federico Bernardeschi che chiude le danze nel recupero. Pagelle, sportielo, voto 6, salva molte volte il frosinone dei lampi di Cristiano Ronaldo, poi si arrenda lo stesso CR7 e Bernardeschi. Goldaniga, voto 5, partita in colore del difensore che ci prova con il massimo sforzo ma non basta. Salaman, voto 6, partita incredibile del difensore, tiene testa gli attacchi avversari ma sul più bello si fa sorprendere da CR7. Capuano, voto 6, salva la partita nelle fasi iniziali e lotta con i compagni, alla fine si è dovuto arrendere, non è esente da colpe sullo 0-2. Cipsa, voto 5, poca roba per il centrocampista, perde alcuni palloni che diventano decisivi per i bianconeri. Maglielo, voto 5, si fa sorprendere molte volte dal centrocampo e non fa partire le azioni per la propria squadra. Alpherson, voto 5, partita scialba del centrocampista ischlandese ex-udinese, ci prova in tutti i modi ma perde alcuni palloni e non recupera la posizione. Molinaro, voto 5, non riesce a dare una svolta sulla fascia sinistra, complice alla presenza di un avversario scomodo come quadrato. Campa, voto 6, lotta come un leone, aiuta la squadra sulla fase difensiva e cerca di far alzare il baricentro dei suoi. Purtroppo ciò non basta ma ha giocato una buona partita. Perez, voto 4, continua a non sorprendere, resta assente nella partita. Longo aspetta il recupero definitivo del miglior Ciofani. Ciano, voto 6, entra bene in partita e prova ad essere veloce nelle marcature e nei contropiedi, ma la retroguardia resta attenta e subisce poco.